Il 3, 6 Montiore SM, il 4 Zipac, il 5 Azimut Griff, il 6 Termodinamico, il 7 Zedoka, questa è la prima fila, la seconda fila Zwicky Fox con l'8, il 9 Zaffirio, il 10 Vischio Bianco, l'11 Vida Locarocca, il 12 Zeus Ward, qua non mancano ormai 250 metri allo stacco della macchina. In leggero ritardo Zwicky Fox che ha avuto un'incertezza, di galoppo il 7 di Zedoka, dall'esterno parte molto forte Termodinamico, che scavalca di precisione T4 Tufonta, al cui esterno rimane Azimut Griff. Il lancio di Termodinamico va via in 13, 6, lo insegue Azimut Griff, poi T4 Tufonta, Redfire Thor, nella scia di Azimut Griff è rimasto Zipac, con Azimut Griff che va a chiedere strada Termodinamico, lo sta gradatamente sopravanzando, passa senza strappo Roberto Vecchione, perché il sorpasso su Termodinamico è molto graduale. Può scendere alla corda Azimut Griff e allora Zipac rimane scoperto all'esterno di Termodinamico, mentre il leader completa i primi 600 in 45,2 ma in chiara decelerazione. Ha spazio per spostare dalla corda T4 Tufonta che guadagna la scia di Zipac, allora abbiamo Azimut Griff con Al-Salki Zipac Termodinamico, che è in fuori T4 Tufonta, Redfire Thor che fa pariglia con Vischio Bianco, ma il gruppo procede di conserva senza strappi, e Azimut Griff che può completare il chilometro in 1,15 e 8, avendo sempre all'esterno Zipac, poi Termodinamico e T4 Tufonta, Redfire Thor e Vischio Bianco, una quarta pariglia composta da Samontior SM e Vidalocaroc. Gruppo molto compatto, con il leader che raggiunge i 1.200 in 1.30 e mezzo, T4 Tufonta che si affaccia in terza ruota, Azimut Griff che allunga e prende vantaggio da Termodinamico, poi Zipac in fase calante, T4 Tufonta che emerge in seconda posizione, allargo di tutti lo scatto di Vischio Bianco, Azimut Griff in chiara evidenza, lo insegue Vischio Bianco che sta rimontando T4 Tufonta nel finale, Azimut Griff che stacca e domina nei confronti di Vischio Bianco e T4 Tufonta che resiste al gran ritorno di Zwicky Fox per il terzo posto, due minuti abbondanti sul mio cronometro, dovrebbe essere media intorno all'1.15 per il declassato Azimut Griff che ha anche avuto il vantaggio di scivolare in testa dopo mezzo giro senza strappo nei confronti di Termodinamico, poi si è portato al lato Zipac, ha accelerato e ha staccato da un ottimo Vischio Bianco il seguito T4 Tufonta dalla seconda pariglia, terza ruota, poi però è soltanto terzo, resistente a Zwicky Fox che ha recuperato alla grande dopo Svarione in fase di allineamento. I numeri 5, 10 e 2 per l'arrivo ufficioso della settima di Capannella, è la linea che può tornare allo studio. Grazie.